Allora, rieccoci, si torna a parlare di caso scommesse, anche se non con nomi, titoli da prima pagina, perché non sono stati fatti, non ci sono dei riscontri, però Fabrizio Corona, che tra l'altro proprio su questa emittente intervenne al telefono, qui c'era Francesco Pini che lo portò, interagì con noi per averlo ospite, quella sera lui disse delle cose che poi di fatto aprirono quel filone. Cosa ha detto Fabrizio Corona? È tornato a parlarne, se ne parlava, credo, in un podcast con Robazzi. Sì, con Robazzi, che è altrettanto interista come lui. Esatto, sì, parlavano loro. Quanta bella gente che c'è. Loro in realtà scherzavano, però Fabrizio Corona a un certo punto dice io l'ho sempre detto, faccio i nomi degli altri, ma i nomi dell'Inter mai e ce n'erano, dice Fabrizio Corona. Tornando quindi Francesco ad accendere una luce su questa vicenda. Lui nella diretta con Robazzi, mentre scherzano, dice chiaramente che mai e poi mai avrebbe fatto i nomi perché l'ha usato quel momento a scopo personale per far crescere la sua pagina Instagram che in un solo giorno arrivò a 300.000 follower e il suo canale YouTube adesso è seguito da 2 milioni di persone. per un ritorno personale, ma lo dice proprio in questa intervista, quindi non è una cosa che stiamo riportando noi o che ci è stata detta. Basta andare a cercare la dichiarazione di Fabrizio Corona con Robazzi, mentre scherzano. Addirittura Robazzi inizia la cosa dicendogli mi spezza questa cosa che tu da interista non hai fatto i nomi dei giocatori dell'Inter. E lui ripete, sì, ma ce n'erano. La storia la conosce lui, nel senso che il casino, tra virgolette, mediatico e attorno a quella situazione di caccia scommesse fu portata avanti da lui inizialmente. Poi è ovvio che c'erano delle cose che furono verificate e per le quali alcuni giocatori hanno pagato. Io posso soltanto dirti dalla mia che ovviamente alcuni di quei nomi li ho visti, ma non li farò mai perché sono nomi fatti da Fabrizio a me e quindi se li vorrà dire un giorno lui, bene, ma io sicuramente non mi prodicherò a fare nomi per i quali poi non posso supportare delle tesi così pesanti per quello che si parla, quindi non farei mai una cosa del genere, ma non è un problema dirlo adesso perché l'ha detto lui e fino a qualche mese fa non ho aggiunto altro perché questa dichiarazione sua non era mai uscita in questo modo così pulita e probabilmente questo fa un po' parte di quello che è poi il malcontento di molti tifosi, non tanto della Juve e basta, ma di tanti tifosi, magari milanisti, napoletani, insomma di chi non è nerazzurro che si chiede come mai poi alla fine su certe questioni e su certe situazioni questa squadra milanese sembra pagare poco. Devo anche aggiungere una cosa però per dovere di cronaca, non tutti i nomi che fece Corona tra settembre e ottobre, più o meno era quello il periodo, poi portarono effettivamente a degli sviluppi. No, Zaniolo per esempio no. Per esempio, bravo, Zaniolo fu inizialmente travolto dalla vicenda, poi invece gli inquirenti non trovarono nulla di compromettente e Zaniolo ha tranquillamente continuato la sua stagione, quindi può anche essere che magari Corona potesse fare dei nomi di giocatori dell'Inter e che poi la cosa non portasse a nulla. Però Mario già il fatto di parlarne comunque riaccende il discorso, un po' da fastidio credo a voi. Ma innanzitutto mi sento di dire che anche da tifoso interista io sarei dispiaciuto e mortificato innanzitutto per i ragazzi che vanno incontro a questo problema gravissimo che è il gioco, la ludopatia e quindi onestamente se ci fossero dei calciatori coinvolti a me farebbe piacere saperlo per aiutarli a prescindere dalla squadra nella quale giocano. Questa è una cosa molto grave che tocca tantissimi ragazzi molto giovani e anche meno giovani che rovinano la propria vita per andare lì oltre quello che dovrebbe essere il consentito. E allora parlando del gioco mi limito a dire questo, quindi della ludopatia, invece parlando di Corona io penso che da tifoso dell'Inter invece a maggior ragione se ha qualche cosa da dire la dica perché per quanto mi riguarda lo sport insegna un'unica cosa che è la lealtà si vince e si perde sempre in rispetto di questo e quindi non è vero che ci sono tifosi di un certo tipo di alcune squadre, tifosi invece che sono magari meno toccati da tutto questo ma io penso che sia una cosa talmente grave e spiacevole che debba essere presa in considerazione e curata qualora ce ne fosse bisogno. Al volo poi passo la parola a chi vuoi, fai tu. In quei giorni dopo quella diretta che abbiamo fatto qua tantissime persone mi hanno detto dai ti prego dimmi i nomi che ti ha scritto, io non ho fatto neanche mai vedere mezza di questa cosa perché ripeto non è una cosa che posso supportare o portare avanti io perché magari uno lo dice anche per depistare no? Però dato che ora lo dice lui il concetto è nella fine dell'intervista lui addirittura dice tonali e fagioli mi devono ringraziare per quello che ho fatto, non è così perché tonali e fagioli sono usciti da un problema adesso perché sono stati beccati anche grazie a te ma il problema dei tonali e dei fagioli secondo me in quel momento era il fatto che si domandassero come mai loro e non altri, cioè perché se devono pagare è giusto che paghino ma devono farlo tutti in un suo modo perché se no non diventa un paese democratico e non diventa equa la cosa. Ritengo che sia l'unica visione da avere e da prendere dal momento in cui si parla di cose gravi a livello anche umano quindi non parliamo solo di sport. No no è chiaro qui usciamo dal discorso, Gianni che dici tu? Io dico che questa cosa voglio partire da una frase che ha detto nella sua analisi finale l'amico Francesco c'è una società a Milano che diciamo ha una specie di, se avrete fortuna, la chiamiamo così perché intanto ha stampa favorevole sempre per cui, e non so, riesce sempre a uscire da delle situazioni in qualche modo questo scudetto che ha vinto, che gli ha portato una stella immeritata perché dovrebbero essere 19 i loro scudetti come sappiamo tutti, ma è andato tutto bene. Questa cosa di Fabrizio Corona, insomma Fabrizio Corona ha sparato, si parlava di cento nomi, di tutte queste cose di fatto ne hanno presi due e al mondo del calcio forse è andata bene così perché si è parlato poco, le società sono state le prime ad essere danneggiate e sono le società di fronte a queste cose ricordiamolo, perché abbiamo visto cosa vuol dire una città che paga 80 milioni per prendere tonali e poi per un anno e passa non lo può neanche utilizzare e oggi quanto varrebbe tonali se lo dovesse mettere sul mercato? Poco o niente e quindi insomma altri nomi che sono stati coinvolti in questa vicenda mi si è dato veramente una specie di sparare così ad alzo zero è vero che l'obiettivo di Fabrizio Corona era quello di lanciare di promuovere il suo sito, ma l'ha anche detto l'ha fatto benissimo però lo conosciamo bene cosa fa Fabrizio ma ecco io credo che anche lì chi doveva andare a approfondire le cose forse sia andato molto leggero come sempre quando si va a toccare il mondo del calcio le cose non vengono mai approfondite fino in fondo poi alla fine magari invece saltano fuori delle cose che dicono ma come mai lo potevano tutti e invece non è andata così però insomma questa è l'ennesima sparata che ha fatto Fabrizio ma io credo che abbia ragione perché quando Francesco dice dei nomi dell'Inter i nomi dell'Inter che sono tirati li conosciamo, lo sappiamo un po' di sono e ovviamente nessuno di noi ci pensa lontanamente a poter fare un nome se non ha una io sono un giornalista professionista da più di 40 anni e se avessi dei documenti o delle cose non esiterai un secondo a comunicarli e a fare dei nomi però devi avere delle pezze giustificative e delle prove è chiaro ci mancherebbe se non sono chiacchiere da bar il nostro mestiere è un mestiere serio ancora ma io sono sicuro che i due che hanno pagato è giusto che abbiano pagato ma non sono gli unici ma di questo ne sono straconvinto io adesso non so di che bandiera, di che squadra chi sono i giocatori ma so di per certo che ci sono tantissimi tesserati che sono caduti in questa vicenda e non sono stati pizzicati poi come giustamente dice Gianni bisogna poi avere le prove per poter parlare e non si può parlare per chiacchiericcio però io ti dico che tra tesserati però ci si parla si parlano io qualche tesserato lo conosco e anche abbastanza bene e so di per certo che ci sono ci sono più di più di giocatori e più società che sarebbero state coinvolte con i propri calciatori in questa situazione è logico che probabilmente andava bene così far pagare due giocatori comunque due giocatori importanti e finire lì la cosa ma io ti assicuro che hanno questa malattia ce ne sono veramente tantissime non solo nelle grandi squadre e nella massima categoria ma anche nelle categorie inferiori aggiungo una cosa quello che ha detto Massimo adesso noi stiamo ovviamente discutendo di questa uscita di Fabrizio Corona di questi giorni dove ha dichiarato lui questa roba e quindi ne stiamo riparlando per questo motivo dice bene Gianni che non si può parlare senza avere le prove infatti la prima cosa che ho specificato era proprio quella però guarda caso parlando con qualche tesserato questo qualche tesserato che magari non era implicato in questa vicenda non sto dicendo che sia stato implicato o no però era un tesserato di Serie A questi nomi fatti li conoscevano anche loro e quindi quello che dice Massimo è assolutamente corretto cioè il concetto e le cose girano la voce si sparge velocemente soprattutto all'interno dei corridoi calcistici della Serie A e non solo e quindi ti viene da dire bene però perché da una parte è vero che hanno pagato due che dovevano pagare sono d'accordissimo perché a prescindere da questa è una cosa che nessuno deve fare però in questa situazione una squadra ha avuto la possibilità di vendere un giocatore prendere 80 milioni e rifarsi il mercato perché però però uscì dopo la notizia uscì dopo ma io ho qualche dubbio scusate da italiano normale medio me lo pongo perché dico guarda caso il Milan vende tonale 80 milioni dopo una settimana esce sta roba secondo me qualcosa loro avevano saputo qualcuno di loro qualcosa aveva annusato ecco mettiamola così perché ripeto i tesserati sapevano dei nomi che c'erano in giro e quindi se lo sanno loro figuriamoci se non lo sanno le società detto questo il Milan vende il giocatore fa il mercato con 80 milioni e fa una stagione con i suoi effettivi Fagioli sta fuori un anno intero Mario volevi intervenire per chiudere mi piace pensare avrei voluto vedere i giocatori fuori un anno intero altrettanto o da altre parti visto che dovevano essere secondo lui inquisiti anche loro perché colpevoli dei reato poi ripeto secondo lui perché lo dice lui un minuto prima della pubblicità per quanto mi riguarda mi piace pensare che questa vicenda a prescindere dal fatto che abbiano pagato solo due giocatori due giocatori mettiamola come vogliamo sia stata di monito per tutti gli altri e che adesso tutto questo non si ripeta più perché visto che è stato acceso un riflettore così importante su una cosa che magari è stata un po' tralasciata però scusa però scusa però scusa sì dimmi visto che l'hai usata tu giustamente sì il nome ed è un nome esattissimo la ludopatia purtroppo ti assicuro che è veramente vicina a uno che è tossicomane sì sì sono d'accordo quindi non pensare no ma non pensare che il monito sia sufficiente a diciamo così levare il vizio o levare l'abitudine di questa gente che è seriamente malata io me lo auguro quindi il monito purtroppo non è sufficiente molto più profondo scusa Massimo scusa ma io me lo auguro che almeno il fatto che ci siano delle pene comunque certe così pesanti come quelle che sono state inflitte ai due calciatori scoraggi quantomeno tutti quelli che lo facevano in maniera superficiale almeno da quel punto di vista sintetico